la 300 oggi è inarrestabile è inarrestabile veramente veramente incredibile veramente incredibile super variante della Rocco Lungo che consiglio anche ai anche ai più deboli di cuore e niente adesso bisogna uscire un attimo fuori dalla teoria ragazzi perché urge urge e quando dico urge dico urge urge spinta f5 prima Rocco re h7 tu che cacchio devi fare con quella mossettina lì che cacchio devi fare non lo so vuoi solo mettermi paura è quello che vuoi fare solo mettermi pressione psicologica psichedelica tutto tutto ciò che c'è psico tu ce lo vuoi mettere e siccome tu vuoi mettere il pressure io te ne metto altrettanto non facendo il tuo sporco gioco il tuo sporco gioco non lo faccio non lo faccio minimamente potrei mettere davanti l'alfiere e adesso il momento è il momento di dire fine a questa pagliacciata a questa pagliacciata che si chiama partita bisogna veramente muirsi di coraggio e dire no io questa pagliacciata non voglio continuarla ripeto questa pagliacciata non mi serve non ho bisogno di questa pagliacciata attenzione 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 all'amico fritz attenzione che qui ci vuole regalare attimi di panico ce li vuole regalare e noi l'abbiamo regalato lui mamma mia mamma mia mamma mia mi fa veramente sono senza voce dall'entusiasmo dall'entusiasmo sono totalmente senza voce totalmente senza voce totalmente adesso e adesso siccome lui cerca noi capito lo disorientiamo dove arroccherà questo povero uomo sicuramente 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 non ti arrocco dove tu pensi che io ti arrocchi e invece si l'ho fatto e mu si va bene va bene mettiamoci su una bella torricciola una bella torricciola che sarà mai che sarà mai il re lo togliamo da qui intanto mi hai rotto le bolse è arrivato il momento che tutti noi stavamo aspettando questo momento si chiama torre in F1 tu dici io giustamente io non mi metto a fare queste cose qui no c'ho la torre sotto aia 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 sviste iniziano ad esserci sviste perdite di tempi casuali che cacchio ho fatto aia aia stanchezza stanchezza inizia ad accusarsi inizia ad accusarsi la stanchezza la stitichezza anche è tutto correlato tutto correlato tutto correlato ragazzi mamma mia questa mi è andata proprio di lusso voleva anche la rivincita lui mamma mia inizia veramente a non vedere più una mazza i pre-move ragazzi fanno andare su di tempo in maniera incredibile in maniera incredibile bam così 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 la volevo io così la volevo questa partita così aggressiva così aggressiva la desideravo così proprio cioè la partita dei miei sogni aggressiva ma perché non ti ho mangiato giusto perché c'era tutto inchiodato qui tutto inchiodato è tutta un'inchiodatura ragazzi è tutta un'inchiodatura e tutta un'inchiodatura tutti quantos una grandissima inchiodatura e qui potrei soffrire qui potrei soffrire però dopo questa meno male meno male meno male che hai fatto il bravo meno male che hai fatto il bravo almeno tu nell'universo diceva qualcuno tu che sei diverso nell'universo ah non faccia così eh tu sei diverso nell'universo dimmi che sto alfiere se ne andrà a fare no no sempre sarà sincero alla mortacci tua perdere ah no questa è diventata è diventata un'altra canzone bene 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 sono d'accordo con questa decisione che hai preso uh grande afro oracle andiamo su basta dopo un po' mi fermo perché sono alla fine ah questo vuole combattere la variante col fianchetto ma non sa che il fianchetto non serve contro la contro la 300 non serve a nulla non lo sa ancora ma non serve a nulla adesso io dimostro ah c'è sempre sto punto qui che abbiamo capito che è un punto debole ragazzi ed è un cacchio di problema devo sistemare quella storia lì devo sistemare quella storia lì perché inizia a essere fastidiosetta inizia a essere fastidiosetta ah questo è un regalone questo è veramente un regalone da parte tua e ti ringrazio perciò perché si capisce da qui la tua natura compassionevole nel gioco degli scacchi e quindi io ho tutto il rispetto per coloro che giocano in maniera compassionevole ok direi che sono abbastanza in vantaggio di materiale vediamo solo di non perdere ah è così è così dunque te la vuoi giocare in questo modo? ma che mi offendo eh è che non me l'aspettavo vabbè ce l'avevo tutto in presa qua ok va bene va bene va bene 300 fatti valere fatti valere fatti valere grande grande 300 il mio avversario non sa più da che parte cercare del controgiuoco non lo sa non lo sa non lo sa chi lo sa chi lo sa non lo sa non lo sa ok mi sono perso qualcosa c'era qualche sacrifice c'era qualcosa che non ho visto forse c'era qualcosa faccio così faccio così facciamo così così se vabbè poi e poi quante vite hai amico fritz amico fritz non fare lo sbruffone con me mai più mai più citazione ragazzi citazione do 90.000 dollari a chi trova questa citazione 90.000 dollari al citatore che metto tutti i pedoni su case bianche se vado ad alfiere bianco per limitare il suo alfiere l'unica l'unica motivazione qui dovevo catturare mannaia mannaia ok facciamo quelli che giocano a scacchi attenzione 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 che questa si perde questa si può perdere questa si può perdere questa si può perdere barra pareggiare ultima ultima per oggi una sola sconfitta ragazzi dovuta al dovuta al non so perché non sento l'audio c'è qualcosa che non va ma va bene così va bene così attenzione trecentizzatore come avversario ho un trecentizzatore ho un trecentizzatore di quelli putendi ma cazzo la lascia questa meno male che non l'ha vista era punibile era punibile molto punibile molto punibile e ripunibile ancora mazza o meno male che non sta giocando preciso il mio avversario meno male meno male meno male meno male cavallo qui ma meno male che cosa sto facendo gli do la regina così ma va bene gliela diamo che quanti errori ragazzi ci sono più errori in sta partita che mamma mia quanti errori se c'è il matto l'ha visto l'ha visto il figlio il figlio letto quel figlio letto l'ha visto quel gran figlio letto no ma perché bisogna essere volgari e scurrili perché bisogna essere scurrili perché c'è bisogno di scurrili di essere scurrili no non c'è bisogno sono scacchi di scoperta c'è tutto qua c'è c'è il mondo il mondo cosa vuoi fare bene basta basta per oggi ragazzi mitica difesa 300 che subito e nel giro di pochi minuti mille punti ci divertiremo quando gli avversari diventeranno più forti ma questo nuovo modello della 300 è devastante devastante e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao ciao